La notte di Capodanno è ormai vicina e c'è chi andrà al ristorante, chi preferisce ordinare qualcosa di pronto, chi sta ultimando invece gli acquisti per avere in casa tutto l'occorrente per preparare il cenone. Un momento di festa da condividere con amici e famiglia per salutare il 2022 e accogliere insieme, pieni di buoni propositi, il nuovo anno. Si prepara tutto in casa, in famiglia, come le vecchie tradizioni, come si festeggia al solito e si fa un po' di baldori in casa, in famiglia. Al di là della location e della compagnia non mancheranno a tavola piatti tipici e dolci. La scelta del menù varia però anche in base alle tradizioni di famiglia. Le cose solite e tradizionali, carne e un po' di pesce senza spendere tanti soldi. Lo passerò qua con amici a Caltanissetta, non andrò fuori. Di solito si mangiano i prodotti tradizionali di Capodanno, sempre carne abbondante. E poi i soliti dolci, cose tradizionali penso che faranno. Poi c'è le cuoche o i cuochi, c'è pure un cuoco, faranno qualche cosa di particolare a sorpresa. In famiglia? E cosa cucinerete? Pesce. Da tanto tempo che manco qui Caltanissetta e quindi lo passerò in famiglia e nient'altro. Festeggeremo il Capodanno in famiglia, come ogni anno, visto che è una nostra tradizione siciliana, cercheremo di festeggiarlo come lo facciamo ogni anno. Generalmente mangiamo la cotenna, le lenticchie, il baccalà e tante altre cose. Onestamente andrò a Catania con la mia fidanzata. Festeggeremo a casa di amici. Solitamente lo sembra festeggiato in famiglia, per questa volta cambiamo un pochettino.